Mettetevi comodi, c'è cinema, 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 su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, Tonino Pinto e le sue interviste esclusive ci racconta la vita e gli aneddoti dei più famosi attori italiani ed internazionali ed è anche presente come inviato speciale di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo, nei più famosi festival del cinema come Cannes, Venezia, Roma, Giffoni Festival e Monte Carlo Filfestival. Festival della Comedì, cinema, 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 se vuoi dire di aver guardato veramente un film devi lasciare che anche il film guardi te. Tonino Pinto del Festival di Cannes con le ultime notizie di questa settantasesima edizione che sabato chiuderà il suo percorso con l'attribuzione delle palmaresse. In Sanso diciamo subito che ha avuto un gran successo Asteroid City, il film con un cast veramente stellare, tra cui Scarlett Johansson e l'ultimo arrivato è Tom Hanks. L'Italia è degnamente rappresentata, questi alcuni titoli dei giornali francesi commentando il successo di pubblico e di critica con la proiezione in concorso per la Palma d'Oro al Festival del Cinema del film Rapito di Marco Berlocchio, primo dei tre film italiani selezionati nella sezione ufficiale. Bisogna tornare al 2015, l'anno in concorso a Cannes di Sorrentino, Morette e Garrone per ritrovare tre autori italiani in gara per il palmaresse come ha sottolineato ieri Fabrizio Gifuni, protagonista di Rapito in una nostra intervista. Marco Berlocchio, vincitore qui a Cannes l'anno scorso di una Palma d'Oro alla Carriera e di un David Di Donatello quest'anno per Esterno Notte, ancora con Gifuni, è uno splendido autore, fra i più apprezzati su un piano internazionale. Rapito ci trasporta indietro di due secoli attorno alla vicenda vera di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia su mandato di Papa Pio IX e chiuso in Vaticano per essere allevato e cresciuto con la fede e la religione cattolica. Un film forte, potente, costruito con il pathos politico di un poderoso thriller scritto e sceneggiato da Bellocchio con Susanna Nicchiarelli e Edoardo Albinati, fra gli attori con Fabrizio Gifuni, Filippo Timi e Paolo Piero Bono. Ed oggi a Cannes è arrivato anche Nanni Moretti che stasera porterà in concorso il Sol dell'Avvenire già sui nostri schermi in Italia dove da settimana è ai vertici degli incassi nelle sale. È la nona volta che Moretti viene a Cannes godendo di grande popolarità in Francia dove ha conquistato tanti premi cominciando dalla regia per Carodiario alla Palma d'Oro per la stanza del figlio. Nel Sol dell'Avvenire è la storia di un regista che girando forse il suo ultimo film, un film sui fatti di Ungheria dove si parla di comunismo, di Trotsky, di Stalin, ma è anche un film di sfrontate considerazioni sullo stato di salute del cinema con un colpo di scena finale che come hanno scritto i critici decreta la vittoria del cinema sulla storia. Un gran film, un film tra gli attori tutti bravissimi con Nanni Moretti, ancora una volta Margherita Bui e Silvio Orlando e Barbara Bobulova.